Non è certo il colpo di genio col quale il governo salverà le finanze pubbliche, ma l'annuncio del ministro dei beni culturali Franceschini merita di essere apprezzato. Chi vuole potrà pagare le tasse cedendo allo Stato quadri, sculture, archivi, libri antichi. Come spesso accade in Italia, questa possibilità esisteva da 32 anni, ma da 4 non si riuniva più la commissione incaricata di valutare le proposte. L'ultimo scambio fisco-collezionista risale al 2010 e questo quadro del pittore Alberto Burri, stimato a circa 100.000 euro, ho risposto alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Visto che Franceschini ha rimesso in piedi la commissione, perché non riprovarci, magari prendendo esempio dall'Inghilterra, dove il meccanismo esiste da 100 anni, ed ha consentito di recuperare 124 milioni di sterline di tasse negli ultimi 4 anni e ai suoi musei di esporre capolavori che magari sarebbero finiti a contrabbandieri oltre manica. Lo scorso gennaio, un tizio che doveva al fisco britannico 2 milioni di sterline, le ha pagate con questo dipinto dell'artista veneziano Francesco Guardi. Nel 2010 gli esattori inglesi hanno accettato 30 lettere autografate di Charles Darwin, valore 175.000 sterline, oltre a 46 disegni del famoso pittore italiano del 600 Giovanni Francesco Barbieri, detto Il Guercino, per un controvalore di 4.350.000 sterline. Pensate che un giornalista, biografo dei Beatles, ha saldato le pendenze fiscali in cambio della sua collezione di lettere e manoscritti di John Lennon, tra cui una copia di Strawberry Fields autografata a valore 120.000 sterline. Come prevede la legge, ha anche deciso dove voleva che fossero esposte la prestigiosa British Library. E siccome l'arte, quella contemporanea, è anche una scommessa sul futuro, il fisco messicano si è spinto oltre. Pittori, scultori ed altri artisti possono pagare le tasse cedendo allo Stato un massimo annuo di sei opere d'arte, approvate da una commissione dove ruotano sette artisti. La legge è del 1957 e in oltre mezzo secolo il lungimirante governo messicano si è assicurato una gigantesca collezione d'arte contemporanea di 4.400 pezzi. Ma scambiare le bollette di Equitalia con quadri e sculture serve a poco se poi questi non producono guadagno. Di opere non esposte sono pieni, sotterranei dei musei italiani che magari hanno anche i bilanci in rosso.